Il ruolo delle farmacie che abbiamo per l'appunto lodato soprattutto durante il periodo di piena emergenza pandemica e ancora tutt'oggi le stesse sono tornate ad essere un vero e proprio presidio del sanitario sul nostro territorio e sempre più vicino ai cittadini. Un ruolo a questo punto che si avvicina sempre di più al sociale nonostante le tante difficoltà vissute durante i due anni di pandemia, difficoltà molto complesse il cui consueto lavoro delle stesse e lavoro da banco ha permesso alle farmacie di raggiungere un ruolo davvero di primo piano nella gestione dei tamponi covid. Ma qual è lo status quo attuale? Lo chiediamo al nostro prossimo ospite, il Piavricerio deve avere qui con noi Nicola Stabile, presidente di Promofarma. Salve presidente, ben trovato, come sta? Benissimo, buongiorno a tutti i telespettatori e a lei. Grazie, dunque torniamo ad aprire una finanza sull'attualità perché la pandemia è tornata a farsi sentire, naturalmente la stessa ha comportato un grande sforzo da parte di tutte le farmacie del nostro territorio che hanno davvero avuto il polso del vero covid, il termometro della situazione. Siamo oggi veramente ritornati a una fase come quella del passato? È una fase rischiosa, di alta attenzione? Sicuramente una fase di attenzione. Noi dobbiamo una situazione di relativa tranquillità grazie a una campagna vaccinale che è senza precedenti. L'80% dei cittadini italiani è ormai vaccinata e nonostante questo comunque ogni giorno abbiamo una percentuale di deceduti che è importante, si parla di 150-200 deceduti al giorno, che rimane comunque una situazione estremamente da attenzionare. Sicuramente i presidi ospedalieri non hanno più quel carico di lavoro come un anno fa, ma la contagiosità di questa variante è molto più contagiosa. Lo riscontriamo in farmacia dall'elevatissimo numero di positivi che continuiamo a certificare attraverso i tamponi covid. Senta, il Paese si interroga naturalmente sulla possibilità di sottoporsi alla somministrazione della quarta dose. Ora io le chiedo, al di là di quelli che potranno essere i provvedimenti nazionali, io le chiedo se le farmacie del nostro territorio sono pronte? Allora le farmacie e campane hanno dimostrato di essere decisamente pronte, abbiamo svolto e lo dico con malcelato orgoglio un servizio estremamente capillare per fare in modo che questa campagna vaccinale possa definirsi obiettivamente riuscita. Abbiamo effettuato in campagna circa 200.000 vaccinazioni, stiamo continuando a farle, ricordo che sono dismessi ormai abbo pubblici, l'ha mostrato il tremare a chiuso, quindi sono rimaste come unità vaccinali le farmacie territoriali e i distretti sanitari, quindi è stato riconosciuto il ruolo sociale della farmacia nell'effettuare questo tipo di attività, che è un'attività di prevenzione, quindi un'attività che non apparteneva dal mondo della farmacia fino a due anni fa. La farmacia italiana ha dimostrato di voler essere protagonista non solamente nella dispensazione del farmaco, ma anche nella dispensazione di salute, che questo ritengo sia un elemento... Questo è un valore aggiunto, noi ne abbiamo parlato appunto proprio in piena fase pandemica di quanto le farmacie avessero assunto un vero e proprio ruolo di presidio sanitario sul territorio, divenendo le stesse sempre più vicine ai cittadini, alle problematiche degli stessi, assumendo quindi sempre di più valore sociale. Ora con il ritorno, il rialzo dei contagi, ecco questo ruolo comincia ad essere sempre più presente, quindi sempre più calzante e migliante. Io glielo confermo e le dirò di più, però dobbiamo anche cercare di focalizzarci ed uscire da questo stato emergenziale. Di fatto lo stato emergenziale è terminato il 30 marzo, per cui dobbiamo incominciare ad allenare anche la nostra mente a cercare di rientrare nella normalità, fermo restando che chiaramente questa pandemia, che ormai sta diventando endemica, deve confrontarsi con i numeri, con i numeri che purtroppo oggi sono sempre presenti. Ricordo a me stesso, ne abbiamo discusso qualche tempo fa in questa sede, che subito prima della pandemia si è repotizzata la farmacia dei servizi, che chiaramente era stata fermata ovviamente dalle necessità più impellenti dell'avvento del Covid sul globo. Ebbene con la fine dello stato emergenziale, il 30 marzo la conferenza Stato-Regioni, proprio per certificare l'importanza della farmacia come ruolo di prevenzione, ha ridefinito le modalità di attivazione della farmacia dei servizi, per cui la farmacia italiana e quella campagna in particolare, perché la campagna ricordo è tra le 10 regioni scelte per questa sperimentazione, noi entro 60 giorni dovremmo definire cosa deve fare la farmacia campana per ottimizzare le risorse messe a disposizione e si parla di diverse ipotesi di lavoro, si parla di analisi di prima istanza, si parla di telemedicina, quindi con ECG, oltrecardiaci, oltrepressori, spirometria, ricerca... E questo naturalmente aiuterebbe anche ad alleggerire quello che è il carico anche dei pronto soccorsi e avviare lo sviluppo di una ottica di prevenzione allargando quella che è anche il nuovo modus operandi della cittadinanza. Esattamente, c'è un nuovo obiettivo, quello di fare in modo che sia decisamente più importante la prevenzione rispetto alla cura. Un calcolo di Luca Martini, che è l'ex presidente di AIFA, ha ipotizzato che nelle quattro patologie fondamentali che sono state identificate, che sono l'ipertensione, la BPCO e il diabete, solo l'attivazione di una aderenza farmacologica migliore di un 25% andrebbe a far risparmiare allo Stato complessivamente circa 25 miliardi di euro. E noi auguriamo che tutto questo possa rendersi davvero fattivo. Grazie a Nicola Stabile, presidente di Promofarma, per averci raccontato appunto il ruolo svolto dalle farmacie e quale presidio, primo presidio sanitario del territorio, sempre più vicino ai cittadini pubblicitari. State con Mattina Live. Grazie. Grazie.